Regione Lombardia celebra la figura di Ludovico il Moro, duca di Milano, a 570 anni dalla nascita. Una figura storica chiave, fondamentale per il ducato di Milano, per la Lombardia e per il rinascimento italiano. Basti pensare al ruolo di mecenate rispetto all'opera di Leonardo da Vinci. A Parazzo Lombardia si è tenuto un convegno all'interno di una serie di eventi celebrativi che coinvolgono diverse città, a cominciare da Vigevano, città che deve molto a Ludovico il Moro. Ascoltiamo i protagonisti del convegno, a cominciare dall'assessore regionale alla cultura Stefano Bruno Galli. Un grande interprete della stagione che gli è toccato in sorte di vivere tra appunto 500 e 600. Una stagione che è stata furiera dal punto di vista dei grandi correnti della civiltà europea, di radicali mutamenti. Pensiamo solo tra il 1450 e il 1550 alla nascita dello Stato e lui è stato un grande interprete della fondazione della statualità con l'epicentro Milano in Lombardia. Facciamo questa iniziativa di carattere divulgativo su Ludovico il Moro e che poi replicheremo a Pavia, figura importante, diciamo solo, giusto per cavarsela con una battuta, che senza Ludovico il Moro Leonardo da Vinci non sarebbe stato Leonardo da Vinci, banalmente. Cioè la grande stagione di Leonardo la trova proprio qua in Lombardia e grazie al mecenatismo, all'intelligenza, alla sensibilità di Ludovico il Moro. Per Vigevano sono celebrazioni fondamentali. Noi abbiamo iniziato, abbiamo costituito un comitato nazionale promotore per le celebrazioni di Ludovico il Moro. La regione Lombardia è al nostro fianco e ringrazio sentitamente l'assessore Galli. Per noi è importante perché tutto quello che ha Vigevano, il gioiello di Vigevano a Piazza Lucale e Castello, è un grandissimo regalo di Ludovico il Moro e quindi di Milano. Per noi quindi questo passaggio, la figura di Ludovico che anche la regione ha scelto di riscoprire, è per noi motivo di orgoglio e di grande importanza turistica e culturale. La cosa importante di questo comitato è che per la prima volta abbiamo unificato 25 città italiane, 19 istituzioni e 2 città straniere, proprio per raccontare la vita e le opere di questo personaggio molto noto anche a livello internazionale. Ludovico il Moro mecenate, Ludovico il Moro urbanista e uomo di governo, una figura da riscoprire grazie agli eventi supportati da Regione Lombardia. Con questo approfondimento è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social. Grazie a tutti.